Ce l'abbiamo anche in italiano e abbiamo qui il Signore Gesù che ha detto di essere la via, la verità e la vita e grazie a Dio che ci sono anche oggi delle persone che sono venute, persone che vengono a sapere informazioni riguardo al lavoro, riguardo alla parola di Dio. Abbiamo letto come il Signore Gesù è morto e non è ancora risorto e Giuseppe dell'Arimatea, la pagina precedente, lo ha ospitato in una tomba scavata nella roccia e come Giuseppe dell'Arimatea ha avuto il coraggio di andare da Ponzio Pilato. E allora vediamo tra queste persone chi tra di loro ha qualche domanda da fare. Alzi la mano!